Siamo con Donatella Pagliacci, direttore dell'Istituto Superiore delle Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo, qui a Monterchi per una giornata dedicata alla pittura. Sì, è una giornata che si colloca all'interno della settimana del Festival della Comunicazione, promosso dai fratelli Paolini e dalle sorelle Paoline in collaborazione con la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e il nostro istituto, il Centro Pastorale Cultura e Scuola, ha voluto promuovere, grazie alla disponibilità e sensibilità del Comune di Monterchi e dell'assessore alla cultura, la dottoressa Mencaroni, questa iniziativa. perché proprio sul tema del comunicare la misericordia ci sembrava questo un luogo particolarmente significativo e votato a un tema di questo genere, sia per l'arte che qui è rappresentata, ma anche per il paesaggio incantevole nel quale certamente la misericordia si rivela attraverso la natura. Silvia Mencaroni, assessora alla cultura del Comune di Monterchi, senz'altro un piacere per voi ospitare questa mostra. Assolutamente, noi abbiamo subito raccolto positivamente questo invito da parte della diocesi di organizzare l'estemporanea qua a Monterchi, proprio perché il luogo è fantastico e si presta veramente in un modo eccezionale per l'estemporanea. Ecco, Monterchi non è nuovo all'estemporanea di pittura perché già in passato aveva accolto diversi artisti, poi c'è stata una piccola pausa e noi come amministrazione abbiamo pensato che fosse doveroso comunque riprendere questo appuntamento classico ormai. Quindi quest'anno l'abbiamo appunto legato a questo festival della comunicazione organizzato dalla diocesi, però sicuramente anche nei prossimi anni daremo l'opportunità agli artisti di venire con altre tematiche, con nuovi spunti di riflessione. Interessante anche l'iniziativa dedicata ai più piccoli. Sì, ha riscosso molto successo, i ragazzi questa mattina si sono ritrovati nella sala didattica del Museo della Madonna del Parto e grazie all'ausilio di esperti, quindi ringrazio anche la cooperativa Toscana d'Appennino che tramite il personale è riuscita comunque a garantire un ottimo servizio, i bambini si sono divertiti, hanno socializzato e sicuramente hanno anche potuto imparare tante cose in più su Piero della Francesca e la geometria e la Madonna del Parto. Donatella, il posto bellissimo e vi ha assistito anche il tempo, insomma una gran bella giornata. Sì, siamo stati fortunati e di questo siamo veramente grati perché non poteva esserci una giornata migliore che nonostante il tempo ha letto, ma si sono mantenute queste nuvole che comunque hanno coronato il paesaggio e il cielo in maniera ancora più significativa, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Grazie. Grazie. Grazie.